Poesia ermetica giapponese Il contenuto molto spesso erotico Chiro Taniguchi no Rappresenta l'antitesi dello stereotipo sul fumetto orientale Ma ciò non vuol dire che non disegni e talvolta scriva manga Semplicemente rappresenta una delle varianti del manga La variante che, come per il fumetto occidentale impegnato, potremmo definire d'autore Il Taniguchi più apprezzato all'infuori del suo paese natale è l'autore completo Cioè autore e disegnatore In questa duplice veste è stato in grado di produrre dei piccoli capolavori Come l'uomo che cammina Questa raccolta di 17 capitoli presenta come protagonista Un uomo che cammina tranquillo per la periferia di Tokyo Niente di eccezionale Per questo bellissimo Taniguchi, con quest'opera Riesce a cogliere piccoli particolari che sarebbero rimosti altrimenti La fuggevolezza di attimi Interstizi fra i ricordi Forse troppo misconosciuti Perché, in effetti, questi momenti normali costituiscono una buona parte della nostra vita La bravura del maestro giapponese Sta nel trasferire in immagini le impressioni poetiche di pochi istanti Con una leggerezza unica E allo stesso tempo con dovizie di particolari Conciliando disegni puliti e dettagli cesellati Proprio come un haiku Nonostante il carattere assolutamente piatto dell'opera Nessun picco emozionale o quasi È molto facile l'immedesimazione col protagonista Forse perché noi vediamo sia lui che vede Sia quel che lui vede O forse perché il suo aspetto così perfettamente innocuo e tranquillo È affascinante come uno assurdo ed esagerato E forse proviamo un po' di invidia per lui Non perché sia ricco, bello o famoso Ma perché vive con un sorriso gentile stampato in faccia E di questi tempi non è cosa da tutti